Carissimi amici e carissimi amici di Cedro di Web, non c'è Natale, non c'è Capodanno, non c'è il sorteio di Cedro di Web se non c'è questo spettacolare, bellissimo, meraviglioso quadretto intarsiato, realizzato dalla nostra super artista Stefania Ruggeri, l'artista della famiglia Ruggeri, un quadretto luminoso autografato da lei stessa, Ruggeri, Stefania Duventi in tre l'ha fatto appositamente per noi, è un quadretto intarsiato, un lavoro molto particolare che richiede tanta cura, tanta procura e tanta pazienza e anche quest'anno Stefania Ruggeri ci onora di questo bel quadretto, Stefania Ruggeri, l'artista della famiglia Ruggeri, cercatela su Facebook, cercatela su Instagram e vedrete molte, molte belle cose che le realizzate, è veramente un artista, guardate questo quadretto, questo quadretto farà parte del tanti premi in sorteggio per Diceto TV Web, oggi 29 dicembre alle ore 14 e 20 posso affermare che gli ex pol dicono 70 premi, 70, siamo arrivati a 70, vediamo se arriviamo a fare pure 70, 71, 72, noi ci stiamo lavorando, il tempo scorre velocemente, bisogna lavorare, però stiamo cercando di fare il massimo, seguite Diceto TV Web, seguite la rassegna di cerramente che come vi ricordo sarà domani alle ore 19 alla chiesa di San Francesco a San Piero Diceto e poi il 31, il primo pomeriggio, sorteggio in diretta di questi bei premi, accattatevi biglietti, comprate i capolavori di Stefania Ruggeri e seguite Diceto TV, ciao, a voi buon Natale!